tematiche davvero molto importanti, per cui ringrazio davvero tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto e io purtroppo non è mia abitudine andare via durante i convendi, purtroppo oggi per impegni istituzionali non potrò stare con voi tutta la mattinata però seguirò molto ben volentieri i lavori fino a che ovviamente potrò. Sottolineando che l'amministrazione comunale sarà davvero sempre a disposizione per progetti di questo tipo, anche quelli che vorranno essere realizzati successivamente perché il Comune di Pura davvero vuole perseguire questo percorso virtuoso che è sicuramente volto a migliorare la nostra qualità di vita ma soprattutto quella delle generazioni future. Grazie. Grazie Silvia per le parole di riconoscimento che ha avuto per il lavoro comune che rivolgiamo da tanti anni. Adesso vorrei dare la parola al Presidente dell'Istituto Alberghiero che è il partner del progetto, un partner particolarmente fattivo perché abbiamo lavorato con i ragazzi ma hanno offerto le loro strutture, delle strutture, l'Istituto ha delle strutture veramente fenomenali e porti pure il saluto al Presidente. Grazie.